Oh regà, è domenica oggi lo sapete sì E sono le 16.55, sono qui che mi sorseggia un po' di ace Sta per cominciare il live, o forse è già cominciato e non lo sapete, dovete solo cliccare sul link sotto Sicuro ho messo il link perché sennò avete bisogno del link? Adesso che ci penso? Avete seguito il programma? Non state eseguendo il programma? Sì ragazzi lo so, venerdì e oggi non è uscito il video, che devo fare venerdì? Purtroppo non c'è avuto tempo E se ne fa una ragione, però ho fatto live, quindi mi raccomandi, live non mancate mai perché le sto tenendo costanti Non ho mai saltato, quindi finché non salto tutto a posto E il video di oggi invece non è uscito perché è successo un casino Cioè, avete visto che casino che è successo? A Roma è un macello Cioè qui da ieri sera, io ieri sera ho spento il piccino, l'ho piuttosto la spina staccata Chi si è visto, si è visto, un macello ha fatto Cioè una cosa assurda, una cosa mai vista Al nord c'è stato pure dei vittime quando ho capito, c'è morta gente Cioè un macello è successo oggi, un casino Però sembra tranquillo, quindi io sinceramente avvio il mio mondo Mi faccio una streamata, regà, venite live Eh? Parlavo pure un po' del medio perché andate tranquillo adesso C'è il sole da me, quindi Regà, vi aspetto, eh Cliccate Cliccate Cliccate